Circa 200 anni dopo la nascita di Cristo, Galeno ha gettato le basi della medicina moderna. Galeno era un medico che curava i lottatori. Ha notato le sue pratiche ed esperienze, creando così un corpus di testi non solo utile, ma in realtà venerato per secoli. Galeno! Non! Non! No, 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 no. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. Non è tutto. A ogni intervento, Galeno entrava in un territorio inesplorato. Per fortuna, teneva appunti dettagliati e registrava sia i suoi successi che i suoi fallimenti. Grazie a tutti.